Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con la manifestazione San Giorgio Cando una marcia in più ideata dall'associazione ASD Strada Facendo di San Giorgio con la partecipazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera e patrocinata dal Comune di Gioiosa Marea La quarta edizione si svolgerà nei pomeriggi del 20 e 21 luglio ed è dedicata al ricordo della campionessa Anna Rita Sidoti Le attività ludico-sportive saranno staffetta, gare di velocità, lancio del vortex, l'immancabile tiro alla fune e tanto altro ancora Le squadre saranno suddivise per fasce di età con un massimo di sei componenti dei quali almeno due femmine Anche quest'anno i partecipanti riceveranno in omaggio la maglietta Una marcia in più edizione 2019 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 6 luglio